Il cambiamento climatico, quanto ne sapete e quanto vi interessa? È una delle piaghe del nostro momento storico perché non viene calcolato tantissimo, non viene un po' snobbato è come l'ultima ruota del carro nelle agende di tutti i paesi quando in realtà è imminente La problematica del cambiamento climatico che non è una cosa che si vede nell'immediato eppure se uno va a guardare 10-20 anni fa come era con la temperatura ma proprio il clima si vede che già c'è una diversità un procedimento in atto che è difficile a restare siamo già al di là della soglia o quasi da cui non si può far ritorno Le cacci si sciolgono, la neve non c'è, le piogge scarseggiano e ovviamente le temperature salgono il nostro corpo non è abituato al caldo il nostro corpo è più abituato a un freddo perché nella storia dell'essere umano è più abituato a un freddo la cosa che non si capisce del cambiamento climatico è che non è che dobbiamo salvare la Terra ma cosa è la Terra? se la Terra si intende la roccia dove stiamo quella si salverà si salverà almeno fino a che il Sole o un asteroide non l'ingloba, non distrugge però questo si stia parlando di miliardi di anni il problema è la vita sulla Terra la vita umana sulla Terra e siccome si sono estinte tante razze parliamo dei dinosauri parliamo di tante altre razze e stavolta è giusto il termine razza per evitare l'estinzione dell'essere umano perché di quello si tratta bisogna lavorare sul cambiamento climatico quindi evitare che le temperature arrivano a una certa soglia che si allarghi il buco nell'ozono che i mari non si alzino che gli acciai rimangano compatti e tutte queste cose ecco dove dobbiamo andare a mirare e ovviamente anche la biodiversità gli animali se noi procuriamo anticipatamente per colpa nostra la morte di alcuni animali che non riescono a sopportare le costruzioni dell'uomo il petrolio buttato in mare i pesci che mangiano che ne sono la plastica eccetera eccetera se noi non riusciamo a salvaguardare questa biodiversità siamo destinati noi all'estinzione perché la cosa che noi non capiamo è che l'essere umano è connesso con tutto ciò che c'è intorno fa parte della natura è un'interconnessione e quindi come si dice nei nostri proverbi se piange Napoli Roma non può ridere in realtà se si estingue una razza animale forse è probabile che noi saremo colpiti da questa sciagura quindi per evitare l'estinzione della razza umana e degli altri animali e della razza animale dobbiamo lavorare sul cambiamento climatico anche perché siamo stati noi a procurarlo e se anche se ci sono persone che sì ma ci sono stati nei vari secoli momenti di caldo momenti di freddo è vero cioè non è che non è vero però erano porzioni non globali erano in un tipo succedeva in Inghilterra succedeva in Italia succedeva in India ma non era globale così il problema adesso è scaturito per colpa nostra dal fine del 1800 fino alla fine del 1900 e oltre perché anche adesso non ci siamo fermati l'estrazione dei materiali dal sottosuolo perché se noi estraiamo il petrolio non è che il petrolio è qualcosa che è nato così fare plastica il petrolio non è altro che un cuscinetto che si è depositato nei corsi dei millenni ed è diventato petrolio senza andare sullo specifico che probabilmente non è la seda adatta e soprattutto non sono io la persona adatta a parlarne vorrei consigliarvi un libro un libro di fantascienza scritto da Kim Stanley Robinson uno dei più grandi della fantascienza ho vinto premi eccetera scritto da Fanucci di Tori che si intitola Il Ministero per il Futuro Il Ministero per il Futuro questo libro perché è importante perché è vero è un libro di fantascienza è vero è distopico cronico come vogliamo chiamarlo quindi è nella branca della fantascienza e quindi la fantascienza la fantascienza uno pensa che sia incredibile non credibile perché si va in ambiti non credibili invece questo è una sorta di saggio fantascientifico perché parte da una situazione attuale consideriamo che è uscito nel 2022 in Italia ma è stato scritto nel 2020 cioè è uscito in America nel 2020 quindi parte da una situazione attuale quindi i trattati che stanno facendo i meeting che stanno facendo per poi arrivare in 30 anni a che cosa potrebbe accadere al mondo e il ministero per il futuro è un ministero che è stato fatto in maniera globale per salvaguardare tutti i viventi i viventi che possono essere gli esseri umani i viventi che possono essere gli animali ma anche le generazioni future che ancora non sono nate devono essere protette sin da ora parla di politica parla di tantissime branche che fanno parte del cambiamento climatico perché ovviamente il cambiamento climatico è globale e se non c'è la politica globale a parlare e a curarsi del cambiamento climatico è difficilissimo che ne usciremo fuori questo libro è meraviglioso è lungo a 550 pagine perché comunque esplora 30 anni di vita dal 2020 al 2050 circa un po' prima un po' dopo osserva la storia di varie persone che si sono trovati dentro un cataclisma climatico come per esempio uno dei protagonisti all'inizio proprio all'inizio del libro inizia con un'ondata di caldo in india e perché poi sono sempre i paesi meno sviluppati quelli che noi chiamiamo terzo mondo che in realtà subiscono di più perché si trovano in posizioni geografiche in cui purtroppo subiscono di più e quindi lì c'è stata un'ondata di caldo che ha ucciso milioni di persone e da quel momento si capisce che si deve far qualcosa di concreto e quando e quando i magnati i ricchi i potenti non fanno qualcosa di concreto a quel punto sono le persone singole che si mettono in gruppo e fanno qualcosa di concreto e questa è anche una cosa che succede e succederà se non la smettiamo di pensare solamente a Lick et Nunc cioè a pensare a ora questo libro per tutte le persone che hanno a cuore il cambiamento climatico ma anche a quelli che vogliono saperne di più sul cambiamento climatico anche quelli che non riescono a capire da qui a dieci anni cosa potrebbe succedere questo è un libro consigliatissimo ovviamente uno scrittore eccellente Robinson ha vinto tantissimi premi e quindi anche scritto in maniera eccellente ci sono delle parti di alta letteratura e quindi quello che vi posso consigliare quello che vi consiglio ovviamente è fate la vostra parte sul cambiamento climatico perché ognuno di noi può fare la propria parte e leggete il ministero per il futuro di Robinson edito da Fanucci consigliatissimissimissimissimissimo